Mauro Gattinoni, eletto sindaco qualche giorno fa, ha trascorso i suoi primi giorni a Palazzo Bovara. Chiediamo un attimo com'è andata. È stato un impatto molto bello, l'ho vissuto in maniera serena, anche se il distacco tra il ritmo di una campagna elettorale, i tempi, il chiasso anche della vittoria, in un istante ha dovuto lasciare spazio alla responsabilità di un'amministrazione, perché da quel momento, dal momento di quella firma, diventi sindaco di una città, con tutte le responsabilità, non essendoci ancora una giunta, quindi anche tutte le deleghe sono in capo a me, per quel poco insomma che sto gestendo in questi primi tre giorni. È chiaro che le responsabilità più delicate che riguardano Covid, le emergenze meteo, avete visto anche gli scorsi giorni, ecco, sono direttamente in capo al sindaco, quindi questo mi ha subito messo in un'ottica, nelle linee di pensiero davvero di grande attenzione, di grande responsabilità. Sì, non c'è ancora la giunta che verrà presentata, però immaginiamo nelle prossime settimane. Sicuramente entro le prossime settimane, conto di stare in tempi tutto sommato brevi. Ecco, ha già qualche idea? Sì, ma ovviamente non mi sbottono in questa circostanza. Voglio invece ringraziare, questo ne approfitto, il segretario generale e i dirigenti che ho incontrato subito la mattina dopo. Abbiamo fatto una riunione, una prima riunione di conoscenza, di assestamento. Ho visto che c'è voglia di lavorare, voglia di fare appunto quel famoso cambio di passo, un passo oltre, e credo di avere una squadra importante, capace qui nel Comune. Ecco, tra l'altro lei aveva detto, mi aggancio a quello che ha detto, che avrebbe approfittato dei primi giorni, dei primi mesi di mandato per conoscere meglio proprio l'ambiente del Comune, i suoi dipendenti, per far capire un po' la vision, utilizzo un termine in inglese, di quella che poi è la sua politica. Lo sta già facendo? Inizierò lunedì. Il significato di questo incontro non è tanto fare il giro turistico negli uffici o portare i saluti, ma è spiegare quale modello, quale idea di città abbiamo per i prossimi 5-10 anni e quindi coinvolgere in questo senso anche chi materialmente poi sarà chiamato a condurre nell'operatività e nella quotidianità questo cambio di passo. La scelta politica l'hanno espressa i cittadini, hanno scelto i loro amministratori e io sceglierò i collaboratori della Giunta, ma l'operatività, quella quotidiana, quella che esige anche competenze tecniche specifiche, economiche e amministrative, ecco è la loro e quindi questa sintonia da lunedì ogni giorno andrò ad incontrare accompagnato dai dirigenti tutti gli uffici comunali proprio per spiegare, spiegarmi, ascoltare, perché questo è fondamentale, l'ho fatto con i cittadini a maggior ragione che i 300 dipendenti del comune per creare quel clima di squadra utile e bello per lavorare insieme. Ecco chiudiamo con una domanda, i ritmi più alti adesso in campagna elettorale? Beh adesso in campagna elettorale ci si divertiva, ascoltate, al di là delle battute ai giornali era anche molta dialettica, c'era anche tanta comunicazione volta ad attrarre l'elettorato, primo per andare a votare perché il rischio era che le elezioni passassero in sordina, secondo attrarre e coinvolgere attorno a un programma, oggi invece l'attività e l'impegno anche psicologico è quello di entrare nel merito dei problemi, sto assorbendo come una spugna tutte le informazioni che mi vengono, quindi uno sforzo di concentrazione di imparare un mestiere nuovo. Ho studiato come avevamo promesso fin dal primo giorno, oggi si tratta di mettere in pratica giorno per giorno ogni pezzettino in più a servizio dei cittadini. Grazie mille Mauro Gattinoni, nuovo sindaco di Lekost.